Stamattina mi sono alzato ad un pensiero filosofico a proposito di guadagni, trading e nuovi metodi di guadagno, eccetera, eccetera. Parlo anche del cashback. Come detto, il presidente, primo presidente dell'azienda in cui lavoro, per diventare milionari, fare soldi, si incomincia alle centesimi. Questo è un grande pensiero. ...singoli prezzi delle azioni che compongono un indice fanno il prezzo dell'indice stesso. Lo vedremo comunque ancora meglio più avanti. Il quarto macro mercato è il mercato dei bond, ovvero il mercato delle obbligazioni. Il prezzo sale in maniera abbastanza costante, facendo quindi picchi crescenti, a un certo punto però inizia a comportarsi in questo modo. effettua proprio questo tipo di movimento e esattamente va a formare questi massimi, questi picchi in questo ordine. Questa figura si chiama testa e spalle, perché se ci pensi è proprio come se fosse una testa, ok, con gli occhi, il naso e la bocca, sarebbe più un fantasma più che altro, e le spalle, ok, ora cancellando il viso, o in questo caso la testa appunto che è al contrario, ok, immaginiamo sempre il nostro fantasmino che stavolta ha messo tutto sopra, e la linea del collo sempre in rosso e al cui superamento abbiamo il target che è lo stesso di prima, ovvero la proiezione della distanza tra la testa e la linea del collo, proiettata verso l'alto. Il superamento della linea del collo, dove c'è questa freccia che punta verso l'alto, il prezzo inizia una salita che arriva poi, in un momento successivo, a toccare proprio la estensione, quindi il target di questo movimento. Grazie a tutti!